Bello ragazzi, ciao vi grazie, siamo tornati qui oggi, un nuovo video fantastico, siamo di nuovo su una nostra gloria Gloria, gloria, gloria ad Arstotzka, gloria Comunque, andiamo subito, bando le cianci, a continuare la nostra storia, storia Boom del mercato nero, il governo, troppe ignorazioni facili Ah, 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 ahiaiaiai Iniziale a convenza a bottino ufficiale, rispettore, la ricomentazione sulle credenzioni d'entrata è ora più stringente I cittadini d'Arstotzka dovranno esibire una carta d'identità, gli stranieri dovranno ottenere ad esibire un permesso d'entrata Ok, quindi se non c'è uno di queste cose, è falso Allora, facciamo il barbone, che è Galeazzi, allora Scopo del viaggio, durata del soggiorno, rimango poche settimane, ok Però non c'ha la carta d'identità Eh no, ma non è d'Arstotzka lui Ah, giusto Allora, permesso d'entrata, 12-15, scadenza, 82-12-15, ok Durata un mese Ok, visita, sì, è giusto Eh no, mi scade prima di un mese, scusa Scadenza 12-15, durata un mese 83, mi pare tutto a posto, no? Approviamo, a me non mi sconfiffera molto quella cosa comunque Non creare problemi E secondo me abbiamo fatto un po' una cazzata, però Se non ci dicono niente, va tutto a posto Allora, eccola lei, è carina, no? Bellissimo 83-10-24, adesso è il giorno, vengo 12 settimane, che sono 3 mesi, ok 82-12-09, scade Giusto Eh no Eh sì Scade troppo presto Ma non c'entra niente, pure quello scadeva prima Eh ho capito, ma questo se dura 3 mesi È maschata prima dei 3 mesi Sì, ma può entrare entro la scadenza di questo qua Non è non diverso Sicura Sì, sì Katarina Nadjikovic Allora Sì, è giusto Chiazzi Chiazzi Adi Avanti Anche la signorina La signora Signorina Allora, chi ci abbiamo qua? Ah, Wolverine che si è fatto Harry Potter Hanno fatto un figlio Cosa io non so per visitare Tra il soggiorni o pochi giorni forse, ok Vabbè Però non va bene perché non ci ha visto Questo è un cetolino, che ce devo fare? Ah sì Sei rimasto un po' indietro di qualche giorno, eh Sì Mi serve per permesso o no il cetolino Ciao bello Cetolino non basta più Ottieni permesso Che schifo Ma vaffanculo, va Ho pagato bei soldi per cetolino Allora, va a tenere al paese tuo, va Va, ruspe Vai Eh, ste merdi Vengono a casa nostra a fare i padroni Ma guardate Scopo del viaggio, visita Scopo Non è lui Non è lui, no? Guarda No, non è lui Non è lui, caro Non sei tu Tu sei Lui è coso, eh Heisenberg Questo è È Buddha Interroga Tua foto è diversa Mi sono dimagrito Anni stati crudelli, sì Certo Impronte Che vuol dire? Che è quella roba impronte? Dove? Qua Impronte Consegnare al richiedente Pronte nome Devono coincidere con gli archivi Che devo fare io mo qua? Non ne ho idea Io rifiuto, eh Anni stati crudelli che poi sta meglio così che prima Sì, infatti Vabbè Anni stati crudelli in passato Ammonimento Grazie a me Che tanti donne è entrata Ah, allora Erano giuste Eh, vabbè Eh, ci sta Capita Capita anche ai migliori Ecco la fedele di Satana Frontona Sono cofeso Eh, faccio visita a mio figlio Prima volta in sei anni Ti avrai soggiorno Sei mesi Sei mesi 82 e 10 e 30 Scaduto? Sì Ciao azi Mai è stato più facile rifiutare una persona Mi dispiace Tu fio lo senti per telefono Il bastardo E ne ho 82 Non c'è manco Skype Quindi ti tocca sentire Lo col telefono con la rodella Purtroppo È così Tuo figlio ha bisogno di medicina L'affitto è aumentato Ah, pure Mortacci vostro Ha fatto solo 10 dollari Eh, fai cibo Riscaldamento e medicina Che forza Eh no Non c'ho sorti Ah, per forza medicina E non riscaldamento E lo so Siamo sbagliati Ma Giuletta Ti ripuglia Ripuglia Ricercato per omicidio Ah, tocca ricordare Questa foto Che sicuramente Poi ci dicono Che sta attento Chi è davvero Vince le strade Ma uno che comunque Vince le strade No, vince le strade Ah, ok È uno sportivo Che vince le strade Allora Ministro d'Aquenze Il spettore è oratorizzato Ad arrestare gli individui sospetti Interrogare in merito Alle incongruenze Per consentire l'arresto Questo già non mi piace In transito 82 12 22 Non è scaduto, no? No, tutto giusto Mi sembra lui Noah Namlen Tutto a posto Glorian Glorian A Storscan Mi sembra tutto ok Qua tocca Fai i soldi Per il nostro figlio, eh Non creare problemi Gioco è Il prossimo Che è Che è il numero Numero non conforme Che cazzo Ci ha fatto Ah, regà C'è PewDiePie Regà PewDiePie Rimango sei mesi Ok Sei mesi 82 12 21 Giusto Giusto Iore Lobbikov Long Bikov Iere Iere Long Bikov Ok Il numero Giusto Ok Tutto giusto Tutto giusto Tutto giusto Stavolta Stavolta Sì, credo È lui Sua foto Sì, è lui Ok PewDiePie E fu così che nacque il mito di PewDiePie Un giorno è entrata Artroska Artroska E si creò l'artrosi Esatto Non me dà l'ammonimento Non me dà l'ammonimento No, no, no Posso Ok Bella, sì Erbis Bella, Erbis Scopo di viaggi Ah Transito attraverso il paese Da soggiorno Due giorni È lui È lui È lui Vince le strade Ah, ah Eccolo qua Quindi come faccio a arrestarlo Vince le strade Dati coincidente Ah, devi No, aspetta No, no Beh, lei va sto coso Devo aprir qua Esatto Esatto Ok, se hai vinto le strade Dannazione Ascolta, non l'ho ucciso lei Trampola Non crede la bugia di Repubblica Fai passare me Arresto Arresto, sì Mi dispiace Un momento, prego Che cosa succede? Sono stanno a caricare Merda Sono stanno a caricare Oh, oh Ma gli sparano, guarda Sono so caricati, regà Eh, ciao Vince le strade È stato un piacere Il prossimo Dai, regà È aperto Allora È lui Sì Eric Bergstrom Eric Bergstrom 30 giorni, giusto? 30 giorni, un mese 82, 12, 20 25 Il numero Mi sembra giusto? Può entrare quindi Quanto è pacioccuna? Odio questo schifo di pesa Sono solo di passaggio Durante il soggiorno Meno di... Posso due giorni? Ma perché? Voglio una fare entrare Ti giuro Sì, infatti Transi Nadia Miceli Questa è mezza italiana Miceli a Nadia È del 30 È del 30 Ammazza Si, porta bene Comunque 82, 12, 26 È giusto Ok Passaporto è un numero È giusto Due giorni Passaporto è giusto Ma tocca farla entrare Sta stronza Sì, sta pezza del merda E famola entrare Solo se dice Gloria Devi dirlo Dai Oh, ma va Ma guarda te Vabbè Guarda te Sarbui Perché dicevano Perché vota Sarvinio Mannaggia Eccolo il fedele Tesale È tornato Scolo del viaggio Oggi è bella giornata Amico mio Finalmente siamo Liberi da Trilannia di Antegria Sì, ma non mi ha detto Quanto vai Per sempre Scopo Immigrazione Passaporto è giusto Piotro Eh, ma Spesso per sempre Eh, no È giusto così Giusto, è codice Ti devi sbrigare Perché sennò Sei sicuro, eh? A me non è che mi cosa tanto Non mi dà tanta sicurezza, eh? Vabbè, non è niente falso Tratta bene mia moglie Lei è dopo di me Ah, questo sarebbe La moglie Mamma mia Vabbè, la più carina Fino a me Hai visto il mio frito Dopometri È passato, sì Sì, è passato Ma te non passi Sì, mi sa che impassi però Lei si chiama Vostok Katia E Vostok Katia Eh, non ce l'ha riscoso però No, se ne va affatto Vostok Katia Pure te E tirai per telefono Con il tuo marito Perché? Perché in c'è il cedolino Male, male Tutti male, male Tutti che stanno male Figlio, figlio Sti cazzi dell'altro Medicino e figlio O zio sti cazzi Dorme Muore Dorme Dorme per sempre Allora ragazzi Anche questo episodio È finito Come vedete Il gioco si sta iniziando A fare complicato E siamo più o meno a metà Quindi manca ancora parecchio Prima che finisce Che finisca Si è già fatto abbastanza complicato Perché le impronte Non sono facili da confrontare Perciò ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciamo 5.000 like E noi ci becchiamo Al prossimo episodio Di Paper Please Tu non puoi passare A Stosca Chiamatelo come cazzo vuoi fare Iceman Mirtillo Woman E Buttrillona Che è sencicciottata E vince le strade Anni stati brutelle Vince le strade Sempre Comunque Noi ci becchiamo Al prossimo video Dai grazie È tutto È bella Ciao